Non se ne può più dell'inconcludenza e della passività del governo regionale del Molise. È Michele Orio che torna in campo con una conferenza stampa in programma per domani, ma i cui temi sono stati anticipati dall'ex governatore. E sono temi di strettissima attualità, sono il grido d'aiuto che lanciano inascoltate migliaia di famiglie molisane rimaste senza reddito per una crisi economica generale, ma acuita nella nostra regione dalla totale mancanza di iniziative e di attivismo. È facile dire c'è la crisi e mancano i soldi, c'è la spending review e bisogna tagliare. Non è così e l'input l'ha lanciato lo stesso presidente del Consiglio, Matteo Renzi, quando ha parlato degli sprechi istituzionali delle regioni. Per quel che riguarda il Molise la situazione già drammatica viene acuita dagli errori o dalle omissioni. In percentuale la regione Molise è quella che ha più dirigenti in assoluto. Ridurre il loro numero sarebbe normale, ma invece si contrattualizzano dirigenti esterni e l'ultima decisione di scegliere all'esterno anche il direttore amministrativo dell'ASREM conferma l'indirizzo. Tra i dirigenti della regione o dell'ASREM non c'era nessuno da poter nominare, evitando di spendere altri soldi per un esterno. E ancora, perché non approvare una legge regionale come chiedono i 5 Stelle che abolisca del tutto i vitalizi degli ex regionali che costano 4 milioni all'anno alle casse del Molise? La soluzione alla crisi che sta dando l'attuale governo regionale non è quella di tagliare i dirigenti e vitalizi, ma è quella di tagliare i posti di lavoro delle categorie più deboli e l'elenco parte con gli ex sattorie passando per la gamma in Molise Dati per finire con formazione e protezione civile. Mentre la disoccupazione cresce a ritmi spaventosi, ha affermato Iorio, il governo regionale di centrosinistra, dedito più a ricucire gli strappi in seno alla maggioranza con farlocchi a cordicchi di facciata, è pressoché immobile e incapace di trovare soluzioni alle decine di vertenze che da troppi mesi giacciono sui tavoli della regione. Assistiamo così all'irrazionale smantellamento della protezione civile e al licenziamento del personale. Assistiamo ancora allo sterile dibattito sull'utilità dell'autostrada del Molise che rischia di compromettere gravemente il finanziamento statale per la realizzazione di un'opera strategica e di assoluto rilievo. Assistiamo alla penuria di idee strategiche per il rilancio del settore avicolo molisano che soffre ancora la chiusura dello stabilimento Gam di Boiano nonostante le chiacchiere ripetutamente spacciate e vendute per soluzioni. Assistiamo, conclude Iorio, a un incestamento istituzionale dannosissimo per l'accelere risoluzione delle emergenze e delle crisi che ad oggi hanno prodotto soltanto disoccupazione e povertà.